ciao a tutti bentornati sul canale amo gli italiani raul bova e maria chiara giannetta hanno condiviso coi loro fan una notizia che li riguarda in prima persona i due hanno parlato di un lieto annuncio che nessuno si aspettava ma che loro due in realtà sapevano già da tempo cosa sta accadendo in questa coppia televisiva raul bova e maria chiara giannetta sono una delle coppie professionali più apprezzate dagli italiani i due si sono conosciuti sul set di don matteo e si sono trovati molto bene insieme è sempre sul set che bova ha conosciuto una persona per lui molto importante anche se per altre riprese parliamo proprio di rosio morales che l'attore ha conosciuto girando immaturi i due hanno vissuto un vero e proprio colpo di fulmine e dopo il loro primo incontro non si sono più separati dopo immaturi li abbiamo rivisiti insieme anche in giustizia per tutti il loro amore è sincero tanto che hanno avuto anche delle figlie non c'è mai stata alcuna crisi nella coppia rosio quest'anno è stata la madrina del festival di venezia e ha coronato uno dei suoi sogni più grandi bova si è detto molto orgoglioso della sua compagna elogiandola in più occasioni e riconoscendo ogni volta il suo incredibile talento raul bova e maria chiara giannetta fanno un lieto annuncio i due attori hanno sorpreso i fan con una notizia del tutto inaspettata ma che per loro ovviamente non era una sorpresa la gioia è stata tanta e incontenibile e l'annuncio ha fatto subito il giro del web finendo anche sui giornali di gossip i due sono molto legati sul set ma ricordiamo che si tratta di un rapporto professionale anche se pare che siano diventati anche buoni amici ebbene la buona notizia riguarda la prossima stagione di buongiorno mamma l'altra fiction in cui i due recitano per la gioia dei fan la seconda stagione è stata confermata e sono stati proprio loro due i primi ad annunciarlo sui social scatenando reazioni immediate bova ha pubblicato una storia su instagram dove mostra una foto dal set in cui compare anche maria chiara giannetta non solo l'attore ha aggiunto una breve descrizione riguardo l'ambientazione della prossima stagione finora sappiamo solo che la famiglia borghi ritornerà e troverà un misterioso oggetto nel lago di bracciano la storia si svolgerà tra il 1990 e il 2013 purtroppo non ci sono altre notizie in merito il cast e la produzione vogliono mantenere ancora il massimo riservo sulle sorprese che attendono i telespettatori la seconda stagione approderà in tv nel 2023 e sicuramente in questi mesi verranno svelati altri dettagli interessanti grazie per aver guardato l'intero video metti mi piace commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità ci vediamo nei prossimi video